Da circa un anno è venuto a mancare la nostra guida, il nostro sindaco Claudio, di cui era molto affezionato a questa scuola. Siamo dalla famiglia Gabrielli. Noi come amministrazione abbiamo voluto in tanti modi a cercare il modo per poi anche dare un segno e mettere un segno a questa figura del nostro sindaco. Abbiamo litigato, c'è una storia, però mi ha dato un grande insegnamento che cercherò di portarlo avanti anche nel mio futuro. Do la parola a Don Silvio, se vuoi dire due o tre parole anche tu. Proprio per chiedere al Signore se Lui vuole qualcosa di più grande. E mentre noi pregiamo in chiesa, nella nostra piccola comunità, nella piccola chiesa di Villa Marzana, è arrivato il momento che il Signore se la prese con sé, con tanto dolore ma anche con tanta speranza per tutto il bene che ha seminato in questa comunità. Prima volevamo anche lasciare un ricordo. È un segno, è un ricordo, è un qualcosa che cerchiamo poi di mantenere vivo e ricordandoci sempre di Lui. Cinzia, vuoi togliere la carta e così scopriamo cos'è c'è sotto? Io farei un applauso. Grazie. 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 Grazie.